Buonasera a tutti, sono Pietro Marani, professore ordinario di storia dell'arte moderna e di museologia del contemporaneo nella facoltà di design di questo Politecnico. Come forse vi hanno detto anche gli altri colleghi, molti di noi insegnano su corsi di studio diversi e particolarmente per la storia dell'arte è un corso comune a tutti gli indirizzi, moda, prodotto, comunicazione, interni. Io particolarmente insegno al triennio di interni e alla specialistica di interni. Il mio corso è un corso di storia dell'arte che è obbligatorio nel secondo anno di studi e obbligatorio museologia del contemporaneo al primo anno della laurea specialistica. Questo perché il nostro preside, la nostra scuola e il nostro direttore di dipartimento hanno ritenuto giustamente che la storia dell'arte sia un insegnamento fondamentale per il designer e non soltanto per chi debba occuparsi di allestimenti di mostre o di eventi temporanei o cose che hanno comunque a che fare con l'arte e la cultura, il cultural heritage, il patrimonio, l'eredità culturale che ci è trasmessa, ma anche in generale per chi ovviamente si occupa di moda, di grafica, di comunicazione. Prima di passare nel dettaglio a darvi qualche esempio di quelli che potranno essere i test che vi saranno sottoposti, volevo ricordarvi che l'insegnamento di storia dell'arte in un'università, quale questa è, è un po' diverso da quello che forse alcuni di voi hanno avuto durante la scuola superiore, che forse, adesso non so, io sono tanti anni che non insegno nel liceo, ho insegnato solo un anno o due agli inizi della mia carriera, forse la storia dell'arte nelle scuole superiori è ancora a un livello un po' nozionistico, però quello che è importante sapere è che la storia dell'arte come disciplina accademica è una disciplina molto recente, è una disciplina scientifica, non è che uno dice ah che bello, mi occupo esteticamente delle opere d'arte, dell'arte antica, moderna, contemporanea, ognuno può dire la sua, non è esattamente così come le scienze esatte, la matematica, la chimica, l'ingegneria, la meccanica eccetera, anche la storia dell'arte ha la velleità, la pretesa giustamente di essere una disciplina scientifica, cioè che può essere insegnata obiettivamente con dei criteri, con delle metodologie che hanno titolo per essere appunto considerate discipline scientifiche. Il primo insegnamento di storia dell'arte in università italiana è questo che vedete sulla schermata, creato da Adolfo Venturi, che si può riconsiderare in un certo senso il padre della storia dell'arte moderna e della storiografia artistica italiana. E però questo è un punto d'arrivo di una tradizione molto lunga che per fortuna noi abbiamo già dal XIV-XV secolo con chi per primo si è cimentato appunto nel tentativo di strutturare un'evoluzione diciamo storica di questa disciplina, a partire dal libro dell'arte di Cennino Cennini, insomma per arrivare alle vite di Giorgio Vasari che sono il fondamento moderno di questa disciplina, che nel corso dei secoli successivi si è trasformata prima in una capacità di distinguere le mani, le opere degli artisti e che poi via via si è andata intrecciando soprattutto nel XIX secolo con la nascita delle arti proto-industriali, intrecciandosi con quella che fino a quel momento era la storia delle arti applicate, cioè di arti che venivano comunque fatte manualmente e che però costituiscono un po' diciamo il campo di sperimentazione, la preistoria di quelle che poi sono diventate le arti industriali dopo la metà dell'Ottocento. In questo senso la storia dell'arte moderna, ma anche ovviamente la storia dell'arte contemporanea e diciamo subito che la storia dell'arte moderna come disciplina accademica interessa i secoli che vanno dal XV al XVIII secolo, mentre la storia dell'arte contemporanea, che qui pure viene insegnata sia nella triennale che nelle lauree specialistiche e a cura di una mia bravissima collega Anna Mazzanti, si occupa invece dei due secoli Ottocento e Novecento, insomma arrivando fino alle soglie del ventunesimo secolo. Quindi la storia dell'arte moderna e contemporanea è sicuramente un prerequisito che il designer deve avere perché si intreccia, come abbiamo visto prima, fra storia delle arti applicate, storia dei manufatti proto-industriali e che può essere messa a frutto in tantissime applicazioni che voi sicuramente meglio di me potrete fare quando raggiungerete, sarete alla fine del vostro corso di studi e che si può applicare appunto alla valorizzazione e alla comunicazione dei prodotti storici, all'interior design, quello che ha detto prima la collega Pillan torna subito a vostra istruzione perché come vedete molte lezioni che noi facciamo sono già in lingua inglese, nell'allestimento di mostre e musei, negli strumenti che possono essere messi in atto per la conservazione e la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale, dalle vetrine alle bacheche, ai clima box, alle modalità con cui le opere d'arte vengono trasportate, esposte, rese fruibili, appunto problemi di conservazione o di luce, come le opere d'arte vengono illuminate, qui ci sono corsi che si occupano particolarmente di lightening design, cioè di come si illuminano gli interni e le opere eventualmente di questi interni e anche poi c'è il design per l'eredità immateriale, quella che l'International Council of Museum, l'ICOM, una sigla con cui dovrete in futuro avere a che fare se vi occuperete di questo settore dei beni culturali, l'istituzione mondiale che si occupa e raccoglie i più grandi musei del mondo, ha messo a punto definendo quello che è il museo, come deve essere il museo moderno e contemporaneo, una cui fetta di attività è appunto quella della comunicazione, della valorizzazione non solo del patrimonio fisico, opere d'arte antiche e moderne, ma anche del patrimonio immateriale, tradizioni popolari, orali, musica, canti, poesia, luoghi dell'anima, la geografia dei poeti, degli scrittori, dei cantanti, dei luoghi che hanno interessato lo svolgimento o la produzione di qualsiasi forma culturale o artistica. Di conseguenza la storia dell'arte che cos'è? È un punto di vista storicistico con cui affrontare, in un certo senso, tutto il nostro patrimonio che non crediate sia una cosa solo antiquariale, dicendo ah ma io voglio fare questa facoltà perché mi voglio occupare di cose contemporanee, moderne, le voglio creare, ma voi non le create nel nulla, non le create nel vuoto assoluto, nel vuoto pneumatico di un paese senza cultura e senza eredità, le create in un momento che è oggi, che è il risultato della sovrapposizione di tradizioni, di culture, di anche rinnegamenti di cose precedenti, di contestazioni, di punto e a capo, ma anche quando si fa punto e a capo non si può fare a meno di considerare quello che c'è stato prima. Quindi la storia dell'arte è la spia della complessità storica del nostro oggi, del nostro presente ed è anche probabilmente, come dice questa frase, l'espressione di una concezione organica della storia. L'Italia possiede 5.000 musei, il campo di applicazione per il designer è sterminato, se solo ci fosse la volontà politica di adeguare, di concentrare risorse e ricchezze per la valorizzazione di questo settore. Avete letto i giornali ieri e dovete leggere i giornali e i quotidiani tutti i giorni per essere informati del mondo in cui vivete, degli ennesimi crolli che si verificano settimanalmente a Pompei. Questa storia deve finire, questa attenzione per il patrimonio culturale, per i beni artistici e per la nostra eredità deve essere la nuova linfa su cui far risorgere la nostra nazione. Voi siete le forze nuove che devono farsi carico di questa cosa. E quindi la valorizzazione delle identità locali, della cultura, non di una globalizzazione amorfa e fine a se stessa è uguale per tutti. La storia dell'arte in questo senso è la storia di una continua rivoluzione. Il manufatto artistico è di per sé, essendo un originale, un'opera d'arte che si pone nuova rispetto al passato. E a maggior ragione l'arte contemporanea, e a maggior ragione il design. Per fare questo però bisogna conoscere tutto quello che c'è dietro, tutto il patrimonio, e tutto il processo che ha portato a questo progresso di rivoluzioni, di cambiamenti e di continue cose che consentono appunto di guardare al futuro. L'unica differenza che c'è fra un'opera d'arte antica, moderna o contemporanea, e un'opera di design è che l'opera d'arte è sempre un originale. È un manufatto unico, fatto da un artista, da uno scultore, da un architetto, mentre l'opera d'arte di un designer è un'opera seriale, che può essere riprodotta all'infinito, a beneficio del fruitore, così detto, per usare un orrendo termine, ma mettendo anche in campo una qualità di prodotto, una visione estetica, anche se possibile, che unisce la funzione, l'uso, la validità, l'utilizzazione, l'utilitarietà di un oggetto con la sua presentazione, diciamo anche estetica. Tutti questi aspetti dell'opera d'arte materiale contribuiscono anche a creare un contesto che è lo stesso, identico, perché ci sono le stesse componenti, che interessa anche il campo del designer. E quindi l'opera d'arte, come l'opera di design, e forse con questo concludo le mie schermate, ci racconta tantissimo, non della storia dell'arte in sé, o della storia del design in sé, ma della storia, di una grande parte della nostra cultura e anche, appunto, come dicevo prima, di quello che siamo noi oggi. Concludo con una citazione e con alcune immagini, questa prima parte del mio intervento, che forse è già diventato troppo lungo, non lo so, citando una definizione di Daniel Lipskind, che è uno dei più grandi architetti e designer contemporanei, una delle grandi archi-star che incontrerete nelle lezioni di storia dell'architettura, del design e dell'arte, che dice questo, l'architettura è memoria, ogni architettura, così come si presenta, ci aiuta a capire la nostra identità, è un link, un legame essenziale con il passato, ovviamente anche essendo del tutto contemporanea, e non possiamo avere nessun orientamento senza di essa, e non possiamo sapere che cosa e chi noi siamo. Il design è architettura, in un certo senso. Un edificio o un pezzo, un prodotto di arredamento, deve essere comunque basato su un concetto. Tutto questo, se voi sostituite alle parole architecture, design, building, works of art, painting, sculpture, o qualsiasi altra cosa, è la stessa cosa. Qualsiasi oggetto, manufatto, prodotto originale o prodotto seriale, risponde a questa definizione geniale di Lipskind, cioè un prodotto della memoria, cioè di quello che noi ci siamo portati dietro per essere quello che siamo oggi attraverso 4-5 secoli della nostra storia. Per dirvi quanto la storia dell'arte e dell'architettura e del design sia essenziale, vi faccio vedere, passiamo subito a questo esempio, che volevo farvi vedere, come David Chipperfield, un altro archistar, un'altra archistar della nostra epoca, ha risolto un problema che si trascinava da 50-60 anni, e cioè la ristrutturazione, diciamo, il redesign del Neus Museum di Berlino, che era stato distrutto nella seconda guerra mondiale, e che l'architetto non ha deciso di ricostruire tutta l'ala che vedete sulla sinistra, era distrutta, ma l'architetto non ha ricostruito, secondo lo stile dell'edificio della metà dell'Ottocento, in un tardo stile neoclassico, ma lo ha segnalato con materiali diversi, con un disegno diverso delle finestre, e ha mantenuto nella parte originale, sopravvissuta ai bombardamenti della seconda guerra mondiale, tutte le ferite, tutte le cicatrici, delle mitraglie, delle bombe. Questo perché? Perché anche un edificio moderno, e un intervento modernissimo, straordinario, il quale questo, quello che lui ha fatto nel Neus Museum di Berlino, deve rivelare sempre e comunque il momento esatto in cui è stato fatto. Non si tratta, come nell'Ottocento, di falsificare l'architettura, di riprodurre lo stile rinascimentale in uno stile neo-rinascimentale, o neo-gotico, o neo-romanico, o neo-liberti, successivamente. Ma con i materiali, con un concetto molto forte, mantenere quello che la storia ci ha tramandato, potenziando e di significati, ma anche evidenziando e connotando con un nuovo valore semantico, quello che di questo edificio rimane. E anche i bombardamenti, le cicatrici negli interni, negli intonaci, diventano parte della storia di questo edificio e danno più valore a quell'edificio perché ci tramandano anche una fase, un conflitto, un dramma che quell'edificio ha vissuto in quel particolare momento. Le vetrine di questo museo sono state disegnate da un nostro collega, che insegna qui, Michele De Lucchi, e quindi nell'estrema razionalità, nell'estrema semplicità di un disegno che conterrà le sculture, che già contiene queste immagini, non sono del 2006, sono del 2011, il museo è stato aperto un mese dopo questa mia ripresa di immagini, ma significa che questo deve contribuire a non interferire con i significati e con lo spessore denso di significati che l'architettura e anche le sue cicatrici lasciate inalterate, non colmate, quella stuccatura non è stata ridipinta di rosso. E tutto questo perché? E neanche le grandi pitture murali sono state restaurate. Sono lì, segnalano quel momento, quella tragedia del 1944-45, quando il museo è stato bombardato. Per fare questo, un grande architetto come David C. Perfil, da che cosa si è ispirato? Al Cenacolo di Leonardo, al suo restauro, un restauro durato 20 anni, dal 1977 al 1999, anzi quasi 21-22 anni, dove l'originale, la pittura originale di Leonardo è stata conservata allo stato di frammento, senza integrare le parti mancanti, la cunose, dove mancano gli azzurri, i rossi. E David C. Perfil, in una conferenza che ha fatto qui, alla triennale di Milano, due anni fa, ha detto proprio questo. Restaurare una pittura del Cinquecento, restaurare un'architettura dell'Ottocento, è la stessa cosa. Noi dobbiamo conservare, valorizzare, comunicare attraverso gli strumenti del restauro architettonico, ma anche del design, ma anche di altre discipline, che tutte concorrono a farci capire questo, che cosa l'opera d'arte, l'edificio, ci trasmette o ci può far conoscere. Voglio adesso farvi vedere come questa conoscenza, che qui vi sarà impartita di storia dell'arte moderna, dal Rinascimento al Settecento, vi varrà non soltanto per essere bravi e per dare uno spessore culturale al vostro prodotto di design, ma in questo prodotto che voi progetterete, che sia un'opera fisica, un oggetto, un'architettura di interni, un sistema di metaprogetto, una valorizzazione con gli strumenti del design, di un'area, di un territorio, di quello che volete, tutto questo deve anche essere per voi una prova con voi stessi per cercare di tirar fuori quello che avete dentro. Allora, il test, questo che vi faccio vedere può essere già un test, però non fatto per domandine come quello che subirete, ma fatto per immagini. Vi faccio vedere una casa, una casa borghese di Milano, che è l'insieme di tanti oggetti antichi, moderni, in modo che voi siate stimolati quando andate a casa di amici, di parenti, o quando visitate un museo, una galleria, a cominciare a fare questo lavoro di analisi, diciamo, visiva, di quello che vedete, per cercare di capire il nostro mondo, la nostra cultura, la nostra eredità. Perché se voi andate nel negozio di Cappellini o della Cartel, o di, che ne so, una ditta di immobili, è ovvio che sapete che quello che c'è dentro lì è tutto della Cartel, è tutto di Gaia Aulenti, è tutto di un designer. Ma abituatevi a fare questo esercizio, guardando in una casa che cosa c'è? Oggetti antichi, dipinti antichi, moderni. Qui che cosa vedete? Lo vedete? Un bel quadro astratto, già qualcuno di voi potrebbe dirmi a quale corrente dell'astrattismo si riferisce? Vedete nel medio piano una testa bronzea? Cosa sarà? Barocca, romana, liberty? Il mobile che viene dopo? Capite di che stile si tratta? Allora, a parte l'accostamento, credo, di gran gusto di un'opera d'arte contemporanea, 2002, e un bronzo neoclassico preso da un'antichità di Pompei, da una fonderia di Pompei, il tema è quello anche dell'arredo di interni, del design di interni. Voi non crediate che quando diventerete designers qualcuno vi chiederà mi progetta la casa, la voglio tutta con oggetti contemporanei, non esiste questa cosa. Proprio per quello che dicevamo prima, i vostri committenti avranno in casa un mobile della nonna, avranno ereditato un tavolino antico, un tappeto, non esiste che uno, se non in casi eccezionali nella mia vita, forse avrò visto due case progettate da zero da un architetto che ha fatto anche tutti gli interni uguali in quel preciso momento. E questo è anche un difetto di quando andiamo a vedere certe mostre sul futurismo, sul liberty, dove gli allestitori ricostruiscono degli ambienti dove accanto al quadro futurista di Boccioni c'è, che ne so, un mobile di De Pero, anche lui futurista, nell'idea fasulla, sbagliata, che nel 1917-18 chi voleva farsi una casa la faceva tutta nello stile futurista di quegli anni. Ma non è vero, se voi andate a guardare i più grandi collezionisti di Picasso come Gertrude Stein, quella che ha scoperto Picasso e che ha dedicato a Picasso nel 1907 la prima monografia su Picasso, la sua casa era fatta di mobili orrendi, neorinascimentali, dove c'erano tutti i mobili intagliati con le zampi di leone, le cornucopie, delle cose orripilanti che se le abbiamo in casa noi oggi le buttiamo via. Su questi mobili pesantissimi, ottocenteschi, c'erano i quadri di Picasso, di Braque, di Matisse e quindi quella è una casa che si vive come forse le vostre dove appunto l'oggetto della nonna o lasciato in eredità o comperato sul mercatino dell'antiquariato non può ma deve convivere con un oggetto di design o di arte contemporanea e questa casa è un esempio. Accanto diremmo seconda sala di questa casa una vetrina dove ci sono vetri antichi Vienna 1920 un vaso meraviglioso della Wiener Schule un vaso globulare che dovreste sapere chi è Venini Guillermo de Montiana Venini presi da Giorgio Morandi Seguso accanto a un vaso di Galileo Chini Liberty una collezione interessante nella sua combinazione di cose diverse Borexipec per questo qui accanto il vaso caramella prodotto da Driade esatto va bene allora il concetto l'avete capito ora il test presenta delle domande che vogliono far funzionare la vostra mente e far scattare associazioni contrasti di idee per cercare di capire se questa informazione di base sulla storia dell'arte e del design è sufficiente ad intraprendere diciamo e a seguire i corsi relativi che qui saranno impartiti ad esempio ecco appunto queste sono domande tipo che sono state fatte nei test dell'anno precedente è ovvio che forse sono già un po' dentro nello specifico ma la vespa famosa che noi tuttora vediamo in giro rifatta ridisegnata eccetera a quale momento preciso della storia italiana si può far risalire non è una domanda nozionistica non vi si chiede di dire un anno e se non è uno è l'altro ma di fare un ragionamento quindi la vespa cosa vuol dire è come un po' il termine tedesco e marca di automobili Volkswagen sapete chi sa il tedesco cosa vuol dire la marca di automobili Volkswagen il popolo in auto e la V di Volk è sulla W di Wagen il popolo che può comprenarsi l'auto quindi l'epoca della del viaggio dell'auto di massa la stessa cosa è la vespa quindi a quale momento storico della nostra storia d'Italia si potrà far risalire la creazione e la progettazione della vespa 46 uscivamo dalla seconda guerra mondiale eravamo poveri ci voleva una roba veloce che costasse poco successiva domanda quindi dovete ragionare un po' quale designer italiano ha dedicato molta attenzione al mondo dell'infanzia organizzando laboratori di progetto dedicati ai bambini e scrivendo libri quali disegnare il sole disegnare un albero anche qui ragionate un attimo non c'è tesi di laurea che io segua dove questo designer non viene citato non ne posso più anzi una volta che risolvete questa domanda passate oltre anche voi perché sono già passati anche tanti anni da quando il design si è rivolto al mondo dell'infanzia e ha applicato strumenti interpretativi e comunicativi chi può essere? Munari esatto e lui gli altri sono rappresentanti e rappresentativi di altre correnti del designer quelle che ho preparato io e che non sono queste ma ne troverete un bel po' e mi maledirete vogliono anche farvi ragionare per diciamo sottrazione allora quello che vi si chiede di avere un'infarinatura sui grandi movimenti sulla cronologia della storia dell'arte italiana dal rinascimento al novecento e anche di capire che cosa non funziona in determinati raggruppamenti allora quale di questi pittori non è un pittore rinascimentale? ecco questa era facilissima e così come altre domande cercheranno di fare anche creare delle associazioni un'altra che vedete in cima il teatro alla scala di Milano di Giuseppe Piermarini è un esempio di architettura barocca neoclassica rinascimentale eclettica o rococò si dà per scontato facendovi la domanda del genere che abbiate ben chiare le definizioni di ognuno di questi cinque movimenti quindi se parliamo di teatro alla scala e vi si dice anche il nome dell'architetto che aveva lavorato persino alla regia di Caserta di Caserta cosa ne esce? neoclassica è ovvio 1776 non pensiate che le date sono una zavorra della vostra preparazione le date sono importantissime perché la mia professoressa all'università diceva che le date sono i ganci a cui si appendono gli avvenimenti storici se avete dei ganci mentali pochi ma buoni non potete sbagliare e la cronologia e l'evoluzione dell'arte del gusto del design della moda è fondamentale per il vostro settore di studi e poi di professione quella sotto ad esempio è un pochino più difficile io stesso ci ho dovuto pensare l'architetto e designer finlandese Alvar alto 1898 1976 è molto noto per le sue opere architettoniche e i suoi arredi quale dei seguenti prodotti non è riconducibile a lui io ne ho in casa addirittura uno di questi cinque allora dovete pensare a che cosa Alto ha rappresentato anche nella storia del design o della storia del gusto in questi anni guardate quasi tre quarti di secolo tutti i primi tre quarti del novecento ha vissuto fate la tara sui primi venticinque perché non è che poteva cominciare a progettare all'età di dieci anni vuol dire che lui ha lavorato più o meno dagli anni dal venticinque in poi per un cinquantennio dal 1925 al 1976 attraversando da dove veniva lui dalla Finlandia quindi uso del legno la struttura la mobilità attraversando poi andando in America intrecciando delle correnti artistiche architettoniche cosa tra questi oggetti non sembra rispondere a questa sua visione organica diciamo del prodotto è un trabocchetto questa domanda la C non è sua la C è un prodotto recentissimo è una seggiola degli anni 90 2000 di questo secolo mentre le altre sono queste cose diciamo un po' razionaliste però fatte con questo gusto un po' della forma organica ce n'è altre? non credo allora quello che vi possiamo consigliare date una rilettura a uno dei manuali di storia dell'arte di liceo quello che ho in mano è quello che io chiedo per sostenere il mio esame di storia dell'arte moderna i tempi dell'arte ma non è obbligatorio qualsiasi manuale va bene dall'Argan al Bertelli a tutti quanti quindi in questi manuali recenti ovviamente ci sono ampie parti dedicate anche all'intreccio fra arte architettura e design e quindi basta quello chi l'ha fatto nel liceo basta che gli dia una rilettura veloce chi non l'ha fatto perché proviene da studi diversi vi è vivamente consigliato che se lo studi e tutto quello che voi studiate lo mettete da parte vi verrà buono quando farete gli esami qui da noi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti